Siamo a tutti e benvenuti su ChrisTech Finalmente è arrivato il giorno dell'estrazione dello smartwatch Iradish Y6 che ci è stato offerto dal sito di miticotech.com per regalarlo ad uno di voi Ringrazio anticipatamente anche voi che avete partecipato che avete rispettato le regole la maggior parte di voi perché alcuni non l'hanno rispettato noi lo sappiamo perché dovevate fare un'iscrizione sull'articolo che aveva postato il sito di Miticotech per poi andare a compilare un form che era una delle regole che avevo citato nel video del contest però ho notato che alcuni non l'hanno rispettato Perché era così importante fare questa lista? Perché in questa lista io prenderò da lì i nomi che poi andranno sul sito di random.org e che poi verranno estratti grazie al sito il nome del vincitore Purtroppo alcuni non saranno inseriti in questa lista perché automaticamente non l'hanno compilata Come avevo detto nel video del contest questo video qui non ci saranno ritagli a meno fin quando non verrà eletto il vincitore Inoltre ci saranno due vincitori calma non due vincitori che avranno due smartwatch Il primo vincitore se non risponderà entro una settimana per darmi l'indirizzo a cui spedire questo prodotto io passerò al secondo estratto che sarà un estratto diciamo di riserva Allora sposto un attimo la videocamera in modo che vi faccio vedere l'estrazione in tempo reale Ecco qui Allora siamo più vicini possibile Allora andiamo sul sito di random questo è il sito che useremo e qui ci sarà l'estrazione del numero del vincitore e questa è la lista che avevo detto di compilare che era presente sul sito di miticotech.com e che molti di voi hanno compilato siete ben 49 anzi precisamente 2 in meno perché partiremo dal numero 3 dato che la prima e la seconda riga sono praticamente vuote quindi dal numero 3 al numero 49 io adesso sul sito di random.org scrivo 3 e qui 49 andrò a cliccare questo numero qui cioè questo tastino qui che si chiama generate e qui mi uscirà un numero tra questi qui e questo numero poi corrisponderà alla riga del vincitore e io vi faccio vedere anche vedete bene i nomi spero che si vedano avviciniamo un po' così vedete anche voi che siete presenti su questa lista qui questa è tutta la lista ok torniamo zoom originale e andiamo a estrarre il primo vincitore allora 3 2 1 23 il primo estratto è il numero 23 che è Alessio Agrusti ovvero nome di youtube isterico 89 lol non era né iscritto alla pagina di Mitico Tech né al canale di Chris Tech quindi è un ottimo ben benvenuto quindi Alessio Agrusti tu entro questa settimana mi dovrai contattare e mi dovrai dare il tuo indirizzo per mandarti ovviamente a spese nostre lo smartwatch ma adesso facciamo anche una seconda estrazione in modo da mettere un nome di riserva se nel caso questa persona non ci contatta 3 2 1 31 il numero 31 ops sta cadendo la videocamera eccoci qui il numero 31 è eccolo qua fabio franco nome di youtube fina brd original quindi eccoci qua mettiamoci adesso in modo ecco qua quindi se la prima persona non mi contatterà entro una settimana fabio franco sarà il secondo vincitore ovvero il primo vincitore scusatemi la porta e quindi adesso adesso posso anche ritagliare perché tanto non ci sono è stato detto il vincitore scusatemi ma è impossibile prevedere che bussassero alla porta quindi inconvenienti possono sempre succedere anche in diretta per fortuna i nomi dei due estratti li ho fatti quindi posso tranquillamente ritagliare allora ripeto Alessio Agrusti è il vincitore effettivo se questa persona entro una settimana non mi risponde non mi dà i dati per inviare lo smartwatch passeremo al secondo estratto che è Fabio Franco poi se neanche Fabio Franco risponde ci teniamo lo smartwatch siamo tutti quanti felici e contenti scherzi a parte allora ringraziamo di nuovo tutti quanti Mitico Tech che ci ha dato la possibilità di mettere questo prodotto in regalo eccolo qua sicuramente ci saranno anche altri prodotti che in futuro andremo a regalare per pubblicizzare il mio canale e il suo store e blog vi ricordo di lasciare un bel like alla pagina di Mitico Tech se volete iscrivetevi anche al mio canale lasciate un bel like e noi ci rivediamo al prossimo video ciao